Una partita difficile, sapevamo di arrivare qua a Lecco, dove è una squadra che non ti regalava niente perché comunque quando giochi già senza obiettivi è normale che giochi senza pressione, è più libero su un campo piccolo, sintetico, dove non si è abituato, però è una partita difficile ma la cosa più importante era portare a casa di troppo. È stata una vittoria di squadra, chi ha giocato all'inizio, soprattutto chi è entrato dopo sono entrati con quella giusta energia che ci serviva per vincere la partita sono stati fuori per tante partite, adesso speriamo che possano avere la condizione perfetta per chiudere benissimo il campione sono entrati bene sia Benedetti che Pedrola che De Luca hanno avuto quell'energia che ci serviva per dare una spinta in più alla squadra conosciamo bene le qualità di questi giocatori, hanno avuto parecchi infortuni durante la stagione adesso speriamo di goderci. La classifica è corta, sapevamo da tempo non dobbiamo fare la corsa su noi stessi e la cosa più importante è prepararsi bene alla gara di domenica che diventa decisiva. Domenica sarà una domenica particolare, ci sarà Ericsson, tanti tifosi quindi speriamo di regalare a tutti una bellissima giornata. Grazie 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 Grazie